Che cosa farà l'ultimo dell'anno? L'ultimo dell'anno lavorerò da mia moglie che ha un ristorante e mi tocca lavorare. Quindi lavorare però comunque in mezzo alla festa? Sì, 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 sì. Sarò in compagnia con degli amici, dopo due bicchieri facciamo per salutare il vecchio anno. Speriamo che il prossimo sia migliore. A casa, con sicuramente mio marito e i miei animaletti, i miei amici pelosi. E forse qualche amico, non so. Festeggiamo Capodanno a casa. Saremo in quattro, cinque col mio piccolo, mangiamo in tranquillità e poi veniamo in piazza. Niente di che quest'anno. Non lo so ancora, devo vedere cosa organizzano con i miei amici. Progetti per Capodanno? Firenze. Sarò in città, 31, cena con amici e poi visito gli uffizi, un po' di mostre ma il due sono già a casa. Allora, saremo a casa, prenderemo da sport da un ristorante qui di Fano e poi penso che faremo un giretto con il cagnolino. Probabilmente staremo a casa perché i nostri amici sono a letto con l'influenza. Sì, perché gira il Covid, gira di tutto in questo periodo. Esatto, quindi credo che all'ultimo minuto sarà difficile organizzare. Sono saltati i vari programmi. Sì, per fortuna è andato bene il Natale. Il famoso Capodanno, che cosa farete? Saremo a casa di amici, quindi faremo una cena molto tranquilli, alcune famiglie ci riuniamo e così. Mangeremo le lenticchie, sperando che ci portino un po' di soldi.